... ... ... ... ... Ah no, Brickroy! Sì, nonostante! A tutti gli pennelli! Ah no! Ah, è altra! Ah, ah! La cassa è quella che però viene da un piano! È pescola, non? Vai! Chiota! Chiota! Nooo! Ce ne vogliamo! Io non ce l'ho trovato a andare contro il muro! Eh? E' l'altra volta che c'era la montata. Eh? L'ho prenda contro il muro, perché ero... Da 3, 2, 3... Vabbè, comunque... Sì, cosa stavo dicendo? Eh, la campione che già hai sottofondo, mi ricorda qual è a Chemical Brothers. Quali? Hey boys, hey girls! Hey boys! No, che fai a tutti! No, che fai a tutti! Ma musica? No, non fa toccare! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Superstar! Ah! Ah! Oh! 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 Oh!